momento trash, momento basso della televisione italiana durante la puntata di ieri di The Voice sto leggendo dalla tv blog colpo di scena a metashow quando Francesco Facchinetti perde la sfida di Twitter contro J-AX e accetta, esaltando il suo ecocentrismo, il maniacale utilizzo di social network e cellulare visto che trasmette tutto il suo account per e-scope e di tatuarsi la scritta I love J-AX un momento che passerà la storia veramente come trash 2015 vediamo i concorrenti che sono rimasti che si sfideranno per il team Noemi, Andrea Orchi, Thomas Cheval, Kenyatta e Marianè per il team FAQ, Sara Jane Olog, Chiara Dello Iacovo, Fabio Curto e AJ Summers per il team J-AX, Carola Campagna, Maurizio Di Cesare, Sara, Vita, Felline e Lele per il team Pelù, Marco De Vincentis, Ira Green, Roberta Carrese e Alessandra Salerno Grazie a tutti